Se ami il tuo corpo e vuoi valorizzare la tua bellezza, se sei capace di un gesto quotidiano che ti faccia ricordare quanto sei importante, allora usa i prodotti Simon 6, la linea completa antietà per viso che combatte in modo mirato l'invecchiamento della pelle. Principi attivi esclusivi di origine vegetale e texture impalpabili rendono i cosmetici Simon 6 un elemento essenziale nella cura della tua pelle. Un'azione intensiva antietà che previene la formazione delle nuove rughe e aiuta ad attenuare quelle già presenti. Simon 6 è la risposta che il corpo e l'anima stavano aspettando. Il processo di invecchiamento è dovuto a molti fattori, il patrimonio genetico, lo stile di vita e l'azione di agenti atmosferici. Sole, calore, freddo, vento, smog, fumo, oltre a fattori comportamentali quali alimentazione, esercizio fisico, postura, che influiscono negativamente sulla pelle. Con il passare degli anni la pelle è soggetta ai fenomeni che conosciamo, disidratazione, irregolarità e scarsa elasticità e tonicità. Simon 6 è la risposta a tutti questi problemi. Simon 6 ha creato per te una linea di prodotti che solo il meglio della ricerca in ambito cosmetologico propone. Simon 6 è una linea completa di prodotti anti-età che ridona splendore alla tua pelle. Tutti i prodotti sono contenuti in comodi flaconcini dal design pratico ed essenziale, da 30 ml ciascuno. Il trattamento rassodante viso, complesso aminolifpeptide anti-età, è ideale per tutti i tipi di pelle, specialmente per pelli mature e stressate dai danni ambientali. Questo siero è ideale per contrastare le linee di espressione del viso e le rughe più profonde, riducendole vistosamente ed in maniera duratura. Si applica un leggero strato per detergere, poi si massaggia delicatamente con una piccola dose i punti più segnati dal tempo, lasciando poi assorbire il prodotto completamente. Ordinalo ora al numero in sovraimpressione. Lo potrai avere subito in offerta a 44 euro, anziché 64 euro. Il siero concentrato botanico biopeptide per il viso è un trattamento idratante e anti-età, per tutti i tipi di pelle, anche le più mature. Emolliente, lenitivo, idratante, apporta un immediato effetto luminoso e allo stesso tempo minimizza i segni più evidenti del tempo, attenuando le occhiaie e ridefinendo i contorni del viso. Si applicano 3-4 gocce sulla pelle precedentemente detersa, massaggiandola delicatamente. Prenotalo ora al numero in sovraimpressione. Lo potrai avere subito in offerta a 41 euro, anziché 60 euro. Il siero rassodante viso pH 4.5 è un trattamento intensivo per tutti i tipi di pelle, specialmente per pelli devitalizzate e mature, danneggiate dall'inquinamento e con presenza di rughe. Un siero che ridona splendore alla pelle del viso e del collo. Uno straordinario complesso liftante che ripara le cellule, aiutando la pelle a mantenere l'idratazione fino a 24 ore, nutrendola in profondità e ristabilendo elasticità e luminosità. Dopo la pulizia, si applica un sottile strato sul viso e collo e si massaggia fino a completo assorbimento. Può essere applicato da solo o prima del make-up come base. Prenotalo ora al numero in sovraimpressione. Lo potrai avere subito in offerta a 41 euro, anziché 60 euro. Se ami te stessa e vuoi valorizzare la tua bellezza, usa i cosmetici Simon 6. Crea un rito intorno all'uso dei cosmetici Simon 6. Un rito che ti ricordi ogni giorno quanto sei importante. Simon 6 è la risposta che il tuo corpo e la tua anima stavano aspettando. Simon 6. Eterna bellezza. La forzaucho. La forzaucho. Grazie a tutti